Per me è importante partecipare a questa compagna testimonial come rappresentante della Croce Rossa italiana perché in questi momenti difficili ci avete aiutato molto con la distanza sociale e restando a casa seguendo le regole. Per me questo gesto significa il sorriso che è un simbolo internazionale e in questo momento difficile ci aiuta a ricordarci che tutti noi sorridiamo ma significa anche il mantenimento della distanza sociale perché così questo virus smette di diffondersi e ci aiuta a riprendere le nostre vite.